24 dicembre 1922 Apparizione di Gesù Bambino a Padre Pio Il racconto di questa apparizione è dovuto a Lucia Iadanza, figlia spirituale di Padre Pio, la quale a Pietrelcina era cresciuta fin dalla fanciullezza sotto la sua guida, apprendendo da lui il catechismo, gli inni e le pratiche di pietà. Raccontava dunque Lucia che, quando il padre fu trasferito a San Giovanni Rotondo, ella si recò spesso nella cittadina garganica per chiedere e ricevere da lui consigli e direttive per la sua vita spirituale. Il 24 dicembre del 1922 Lucia volle passare la vigilia di Natale vicino al padre. Quella sera faceva freddo e i frati avevano portato in sagrestia un bracere di fuoco. Accanto a questo bracere, con altre tre donne, Lucia aspettava la mezzanotte, per assistere alla messa che Padre Pio doveva celebrare. Le tre donne cominciarono a sonnecchiare, mentre lei continuò a recitare il Santo Rosario. Dalla scala interna della sagrestia scese Padre Pio e si fermò vicino alla finestra. Ad un tratto, in un alone di luce, apparve Gesù Bambino e si fermò tra le braccia di Padre Pio, il cui volto divenne tutto raggiante. Quando la visione scomparve, il padre si accorse che Lucia, sveglia, lo stava fissando attonita. Le si avvicinò e le chiese Lucia, chi hai visto? Lucia rispose Padre, ho visto tutto. Buongiorno a tutti.